Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Arrestato un marocchino condannato per tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi Banca Marche è andato in fumo i risparmi di una vita Carloni di area popolare si scaglia contro il PD Non hanno capito la gravità delle conseguenze I marchigiani perdono oltre un miliardo di euro Raccolta differenziata Premiati 123 comuni marchigiani Fanno raggiunge con 6 anni di anticipo all'obiettivo fissato dall'Unione Europea Nato in America arriva anche a Fanno Black Friday Un giorno di sconti e promozioni per il via agli acquisti natalizi Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca I carabinieri di Montecchio di Vallefoglia hanno arrestato un marocchino di 28 anni Condannato per tentato omicidio a 2 anni e 7 mesi di carcere Si chiama Abire Sabigliasin Il 28enne di origine marocchina Condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione Per i reati di tentato omicidio in concorso Porto abusivo di armi e detenzione Ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Si tratta di reati commessi a Sasso Corvaro e Vallefoglia Nel mese di dicembre dello scorso anno Ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nella notte Fra il 23 e il 24 novembre Il giovane è ritenuto responsabile insieme ad altri 3 extracomunitari Del tentato omicidio ai danni di un 32enne La vittima era stata rinvenuta con diverse ferite da arma da taglio All'altezza di organi vitali E a seguito delle indagini i carabinieri di Urbino avevano catturato gli autori Tutti poi condannati con patteggiamento alla pena di 3 anni e 2 mesi di carcere Sempre nella serata del 23 I militari hanno aumentato i controlli in particolare all'uscita dei caselli autostradali di Pesaro Fano, Marotta e sulla strada statale 16 Sono stati controllati 130 veicoli e 250 persone I carabinieri del nord di Pesaro hanno denunciato in stato di libertà Un 24enne di origine albanese Ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente E porto abusivi di arma da taglio L'uomo insieme ad altri due connazionali era a bordo di un'auto condotta da un italiano residente a Rimini Ed è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di cocaina Già suddiviso in dosi e di un coltello a serramanico L'autista del mezzo invece trovato in possesso di ascisce È stato segnalato alla prefettura con ritiro immediato della patente di guida Mentre l'albanese denunciato ed uno dei suoi amici Entrambi clandestini sul territorio nazionale Sono stati espulsi e accompagnate la frontiera Ed ora ci occupiamo della vicenda che vede protagonista Banca Marche Sull'epilogo interviene il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni Che mette in evidenza la perdita di oltre un miliardo di euro Di piccoli risparmiatori, imprese e fondazioni I risparmi di una vita sono andati in fumo Per 40.000 piccoli azionisti di Banca Marche Che dopo aver visto azzerarsi il valore delle azioni Si stanno rassegnando ad una crudele realtà Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri Al decreto per il salvataggio di quattro banche in crisi Altri istituti di credito più grandi Intesa, Unicredit e Ubi Anticipano i soldi necessari Circa 3 miliardi e 600 mila euro Per un'operazione che ha portato alla nascita di nuova banca delle Marche Ma che ha indotto altresì la preoccupazione di migliaia di soci Sono infuriati, delusi E si sentono presi in giro per ciò che è accaduto C'è chi ha visto liquefarsi il denaro ereditato dai familiari Chi ha perso da un giorno all'altro 100-200 mila euro Anziani, genitori che pensavano di poter costruire una casa Un futuro ai propri figli E che ora vedono vanificati tutti gli sforzi e i sacrifici di una vita In ballo ci sono 500 milioni di euro delle fondazioni 400 milioni di obbligazioni subordinate Ed altrettanti 400 di piccoli azionisti In tutto questo anche le fondazioni proprietarie Iesi, Pesaro, Macerata e Fano Vedono svanire gran parte del loro patrimonio Di questo argomento se ne è parlato in Consiglio regionale Con un vivace botte risposte in aula Tra Ceriscioli e il capogruppo di area popolare Mirko Carloni Da una parte il presidente ha espresso soddisfazione per l'esito dell'operazione E ha ricordato come Banca Marche sia un'impresa Che di conseguenza azioni e obbligazioni subordinate Siano inevitabilmente esposte al rischio di impresa Carloni invece ha sottolineato la sua forte preoccupazione I marchigiani ha detto perdono un miliardo di euro Io ho ricordato in aula che questa è una vicenda che diventa una seconda crisi per i marchigiani Dopo quella che ha colpito tutta l'Italia e tutto il mondo dal 2008 Come ho detto ieri non ho visto dei salvatori Perché il fondo interbancario che doveva intervenire alla fine non lo ha fatto E invece in queste ore si rende sempre più drammatica la situazione E mi farò carico di qualche proposta nelle prossime ore Per cercare almeno sulle fasce di reddito più basse Su coloro che hanno veramente perso tutto Che ci sia in qualche modo un aiuto E non può passare semplicemente come è un problema di chi ha comprato le azioni Questo è un problema che riguarda tutti noi Riguarda anche la politica perché questa scelta è la prima Ma secondo me è anche un'anomalia Perché a pochi giorni dalla scadenza di tante obbligazioni Quasi 400 milioni Si è, diciamo così, fatto una sorta di esproprio popolare A tante famiglie che in quello avevano le proprie risorse investite Sull'epilogo della vicenda è intervenuta anche la parlamentare di sinistra italiana Lara Ricciatti che richiama il presidente della fondazione Fabio Tombari Ad assumersi le proprie responsabilità per un patrimonio di 42 milioni di euro Andato in fumo e sottratto Sottratto scrive in una nota alle attività di utilità sociale, ambientale e culturale Che dovrebbero costituire la mission dell'ente I cinghiali, i cinghiali che continuano ad avvicinarsi ai centri abitati Dopo l'animale di 80 chili ha spasso lungo il canale Albani Soppresso dalla polizia sabato scorso Ieri sera intorno alle 21.15 un altro cinghiale ha provocato un incidente lungo la Flaminia All'altezza dello svingolo per Bellocchi di Fano Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il centro recupero animali selvatici Cambiamo di nuovo argomento nella sede della provincia di Pesero Urbino Questa mattina sono stati premiati 20 comuni per aver superato il 65% di raccolta differenziata Servizio di Lino Balestra Sono 123 i comuni marchigiani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata Prevista dalla legge dell'anno 2014 E che si aggiudicano i 95 mila euro messi in palio dalla regione Marche Nella provincia di Pesero Urbino sono 20 i comuni che si sono aggiudicati il titolo di comune riciclone Per la regione Marche nell'anno 2015 Aumentando di fatto i comuni virtuosi rispetto alle passate edizioni È una provincia riciclona che sta ottenendo dei risultati importanti Aumentiamo il numero dei comuni che hanno raggiunto le percentuali del 65% Lo scorso anno eravamo a 17 e quest'anno a 20 Proprio su quest'ottica abbiamo cercato di dare anche un input da un punto di vista programmatico Nell'ata dei rifiuti Prevedendo un comitato tecnico composto da 12 sindaci Che dovranno aiutare i comuni che in questo momento non stanno raggiungendo le percentuali Oltre a questo mettiamo in campo anche le buone prassi Per incentivare anche il riutilizzo di materie prime come vetro, carta, plastica Una maniera un po' innovativa e moderna per poter centrare degli obiettivi Che fanno parte poi della nostra cultura ambientale e del nostro territorio Questo dato testimonia il forte interesse delle amministrazioni comunali su questo fronte Ma è necessario accompagnare coloro che ancora non hanno ottenuto buoni risultati Puntando sul passaggio da tassa a tariffa Così da perseguire un sistema più equo ed efficiente Questa è una regione che insomma anche grazie alla competizione che mettiamo in campo tra i comuni Premiando i più bravi e non premiando i meno bravi Ha portato questa regione ad essere la quarta regione in Italia per percentuali di raccolta differenziata Con risultati davvero straordinari in tanti comuni Con alcune province più brave come la provincia di Macerata Alte province molto meno brave Ed alcune che sono insomma una via di mezzo come è successo soprattutto nel passato per Pesaro Urbino Buona performance anche del comune di Fano Che è tra i comuni premiati con un 72,78% di raccolta differenziata Un altro risultato comunque importante, tangibile Che certifica dopo anche il premio che ha ricevuto il comune di Fano poche settimane fa dal lancio a livello nazionale Che il nostro è un comune insieme anche a una serie di soggetti, di attori importanti Penso in primo luogo ad Asia del S.P.A. Che in questi anni sul tema della raccolta differenziata piuttosto che del riciclo Sta investendo e sta portando a casa anche dei risultati importanti Risultati che hanno una ricaduta poi sulla qualità della vita della nostra città Il riconoscimento che oggi il comune di Fano tiene è un altro importante tassello All'interno di un mosaico che un po' alla volta stiamo andando a completare E per aver addirittura anticipato gli obiettivi fissati dall'Unione Europea Il comune di Fano ha ricevuto un ulteriore dono Si tratta di un novetto per la raccolta differenziata Guardate È un omaggio che abbiamo ricevuto da AnciTel Quindi AnciNazionale per gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto Con la raccolta differenziata E onestamente è una grande soddisfazione perché siamo il primo comune In Italia tra i 50 e i 100 mila abitanti che hanno avuto il miglior risultato Quindi è una grande soddisfazione Ma soprattutto abbiamo ottenuto questi risultati con sei anni d'anticipo In base all'agenda indicata dall'Unione Europea Per cui è una bella soddisfazione Anche oggi l'assessore Mascherini è andato a ritirare un nuovo riconoscimento Che si unisce con l'Oscar per la trasparenza Solo sei comuni in Italia l'hanno avuto E quindi è una dimostrazione di un'efficacia e di un'efficienza Che questo comune sta dimostrando in questa fase amministrativa E ci sono anche altre buone notizie in arrivo per il comune di Fano Perché martedì 24 novembre è stato firmato il contratto di locazione A titolo gratuito per l'area del parcheggio interno all'ex caserma Paolini Grazie a questo documento il comune non dovrà più pagare l'affitto dell'area di proprietà del demanio E potrà risparmiare 13 mila euro all'anno di denaro pubblico Altre novità importanti arrivano dalla regione Quella quale è stato ricontrattato l'affitto del Codma Che ora passa da 50 mila a 16 mila euro all'anno Con un risparmio di 34 mila euro annui Negli Stati Uniti ottiene un grandissimo successo E ogni anno vede l'assalto ai centri commerciali Ed ora anche gli esercenti del centro storico di Fano Hanno deciso di organizzare il Black Friday Un venerdì in cui applicheranno sconti e promozioni Questo è quello che succede in America durante il Black Friday Il venerdì nero legato al giorno del ringraziamento Fatto di lunghe code e di un vero e proprio assalto ai negozi Per mettere mano sull'oggetto del desiderio ai prezzi più bassi dell'anno Ha una lunga tradizione statunitense Che quest'anno compie 394 anni Dal primo evento organizzato nel Massachusetts Ora per la prima volta arriva anche nella città della fortuna Grazie ad un'iniziativa promossa dal comitato dei commercianti Del centro storico che riprende questa idea Per dare ufficialmente il via alla stagione natalizia L'inizio è il 27 e la fine è il 27 Cioè dalla mattina con orari normali del negozio Perché con chiusura a mezzogiorno o luna Quanto sono i negozi E fino alla sera Alcuni di noi rimarranno aperti fino alle 22 In occasione di questa giornata La scontistica nei negozi è stata veramente lasciata libera Ogni titolare dell'esercizio I bar hanno adottato altre soluzioni Che può essere come offrire un dolce Offrire una bottiglia di vino Piuttosto che proporre menù a prezzi speciali L'origine del Black Friday rimane comunque incerta Secondo alcuni è nato in Filadelfia E deriva dal traffico Che si forma lungo le strade Creando ingorghe e rallentamenti Per altri invece si riferisce alle annotazioni Sui libri contabili dei commercianti Che passavano dal colore rosso Con cui vengono segnalate le perdite Al colore nero per indicare i guadagni Anche i ristoranti e i bar Hanno aderito a questo venerdì nero Diciamo in italiano Perché noi come bar Offriamo a chi fa un aperitivo Due aperitivi dalle 6 alle 10 di sera Offriamo tre ore di parcheggio a Van Vitelli Perché i commercianti hanno fatto una convenzione Con questo parcheggio Noi come Osteria 26 Vorremmo proporre un menu scontato Un nostro solito menu ad un prezzo scontato Per questa iniziativa È un modo per portare gente in centro È un modo molto interessante E molto conveniente Anche per chi dovrà fare i regali di Natale Per cui io la vedo come una cosa positiva Il centro storico ha bisogno di essere incentivato Le attività hanno aderito tutte E quindi siamo molto soddisfatti di questo tipo di iniziativa Che speriamo abbia un seguito buono Insomma diciamo così Sarà di certo un'ottima occasione Per iniziare gli acquisti di Natale risparmiando E prosegue la protesta dei lavoratori della Saipem Domani, giovedì 26 novembre Tutte le RSU delle sedi Saipem Insieme ai sindacati hanno proclamato Uno sciopero di due ore Dalle 9 alle 11 Con un presidio davanti ai cancelli Della sede fanese in Via Tognolo Nello stesso orario si svolgerà un presidio Anche da parte dei lavoratori Della single SPA A Bellocchi di Fano È stata inaugurata a Fano Una nuova sede di Aita Marche Un'associazione che si occupa di persone con afasia Un disturbo che compromette le capacità di linguaggio È stato un momento di gioia L'inaugurazione della nuova sede operativa dell'Aita Marche In Via della Colonna Fano L'associazione senza scopo di lucro È composta da persone con afasia I loro familiari, specialisti e volontari Che hanno l'obiettivo di capire e affrontare insieme Quel disturbo acquisito del linguaggio Che può presentarsi in seguito a un evento neurologico Come un ictus o un trauma cranico E che danneggia la capacità di una persona Di produrre e comprendere il linguaggio Scritto e verbale Oggi è un momento di festa Perché nelle Marche Abbiamo aperto In tempo relativamente breve Quattro sedi Quindi Pesaro Torrete di Ancone Dove c'è la mia collega Che è anche mia vicepresidente E poi Porto Potenza Picena E oggi Fano È stata una sinergia di forze Tra Fano e Pesaro Così oggi diamo vita a questa attività La Onlus promuove incontri settimanali Di auto mutuo aiuto Corse e convegni di aggiornamento Progetti di teatro Musica e informazione Offrendo luoghi di incontro Per incentivare la socializzazione Tra le persone a fasi che non Un servizio di cui non sempre si parla E di cui invece una componente importante Della popolazione locale Le può usufruire e ha bisogno E sono persone di varie fasce d'età E questo sicuramente è un dato significativo Perché consente il recupero Il recupero più tempestivo Di abilità che differentemente Rendono la vita molto difficile Quindi grazie La città di Fano ringrazia L'associazione E speriamo davvero Di poterne dare la massima diffusione Perché se ne possa fare Il migliore utilizzo E con questa notizia Si conclude qui il nostro telegiornale Grazie per averci seguito E buon proseguimento di serata Con i programmi di Fano TV Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti